Al via il processo contro Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale. L'accusa, che si riferisce al 2008, quando Lagarde era ministro delle finanze francese, è di negligenza per il suo ruolo nell'arbitrato tra l'imprenditore Bernard Tapie e la banca pubblica Credit Lyonnais sui discussi termini della vendita di Adidas. L'arbitrato, che stabilì il pagamento di 400 milioni di euro a Tapie, avrebbe consentito, secondo l'accusa, un'appropriazione in debita ai danni dello Stato. Il processo è previsto fino al 20 dicembre. Lagarde, che rischia fino a un anno di prigione e 15 mila euro di multa, ha detto di non avere niente da rimproverarsi, ha escluso di aver favorito Tapie e di aver agito per ordine dell'allora presidente Nicolas Sarkozy.